Nella sua carriera di reporter quando ha scoperto che bisognava premere il tasto rec per fare le riprese? Io l'ho premuto, cioè io so premerlo, io l'ho premuto il tasto rec, poi nella resta che mi spingeva per chiedervi a un autografo, baciarvi, io devo aver premuto di nuovo il tasto rec e mi spiace. E quando ha capito che quella luce verde, la luce rossa non erano dei semafori ma l'indicazione di registrazione attiva e registrazione bloccata? Si è capitato adesso in treno, me l'hai spiegato tu. Ma è pentito di quello che hai fatto? No, è pentito, non c'è colpa, pentirsi di cosa, cioè io non l'ho fatto appunto. Lei non ha ripreso l'unico red carpet di Travel Companions? E comunque era un pink carpet, cioè non è una cosa così grave, se era red carpet era più grave, era un pink carpet. Vedi, è pink. Ti fai ripresa a mettere i fingri e a risolvere la forma. Vai, vai, vai. Oh, qualcuno che ti chiede una d'oro? Sì. 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 Luca, pure tu, Luca. Luca, pure tu, vai. Luca, chiedi una d'oro a Ferdi e Ferdi chiedi una d'oro a Luca. Alcuni gli chiede una d'oro, per che cazzo? Anche la musica per voi, eh! Ciao! Ciao, Luca! Ciao, Bertilatta! 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 Bertilatta, che bellissima! Luca! Ehi, lo spingete! Luca! Luca! Uuuuh! Cos'è in tempo? Così, giù! Nuh! Ci facciamo! Buon passaggio! Guardate, portate. Guardate, portate, essere qui! Guardate, viagglie! Guardate, arrivi! Ma scusa, spiegami tutto dall'inizio, tu hai premuto il tasto orecchio, si è vista la luce rossa sul monitor? Si, all'inizio si. E quindi stai riprendendo, poi cos'è successo, perché l'hai spento nel momento? No, uno spintone, ho simulato gli spintoni, la ressa che voleva abbracciarvi e nello spintone della via, tra chi lo induzce un po' e qui? Un po' e qui è vero!